20 risultati utili consecutivi e la conferma del primato con 4 punti di vantaggio sul Grassina. Il Montevarchi ha scavalcato anche l'ostacolo Laterina capitalizzando con un gran gol di Gabriele Vangi una superiorità divenuta marcata nella ripresa. Davanti a un pubblico da record, circa 800 gli spettatori sugli spalti, l'Aquila ha così inanellato il 17esimo successo in campionato e può godersi una Pasqua serena. Sì perché il torneo di promozione prima della rush finale onorerà l'ultima pausa e riprenderà domenica 12 aprile il duello a distanza per il salto in eccellenza. Questi nell'ordine agli impegni delle due battistrada. I Rossobludi Atos Rigucci ricominceranno il cammino al comunale di Reggello con l'Aresco prima di tornare tra le mura amiche con il Prato Vecchio il 19 aprile. Un match che realisticamente potrebbe coincidere con la festa per la terza promozione consecutiva. In ogni caso gli Aquilotti chiuderanno il campionato in trasferta il 26 del prossimo mese alla Rufina. Dal canto suo il Grassina, reduce proprio dal successo di misura sulla Rufina con rete di Gurioli, giocherà la 28esima e terz'ultima giornata a Sagginale prima di affrontare in casa il Sochi e prendere la via di Lucignano per la partita conclusiva della stagione. La sfida insomma continua e la sosta giunge opportuna per ricaricare le batterie. Alla ripresa l'unico neo per il Montevarchi sarà la squalifica di Cosimo Stefanelli ammonito dall'insufficiente Masotti di Empoli che non ha usato lo stesso metro di giudizio nel confronto del Briliperi tra le due formazioni.